Ciao, Pitch. Satti, nemmeno io credo più di tanto alla storia di un zampo natale, ma di sicuro loro ricevono i regali. I desideri materiali sono propri di un mio insoddisfatto, che non si accontenta mai. Buddha ha ragione, buddies. Ricevere cose materiali ha ben poco a che vedere con il Natale. Lo spirito matalizio si esprime con gesti di amore, di bontà e di altruismo. Sono tanti i cuccioli soli, senza una famiglia o un bambino a che gli hanno l'amore. La propria famiglia. Cuccioli normalissimi che amano giocare, mi sembrano perfetti. Ok, prima vi mettete in via, giù è meglio, dovete fare molte tappe. Più di mille tra paesi e città. Più di mille tra paesi e città.